E' stata intitolata la memoria di Emanuele Giuseppe Alabbiso scomparse a seguito di un incidente aereo il 24 novembre scorso la nuova ambulanza della pubblica assistenza Procivis di Gela. Il mezzo di soccorso entrerà in supporto alla MAIC 10 già presente ed operativa nel territorio locale per le emergenze sanitarie. All'intitolazione dell'ambulanza era presente anche il vescovo della diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. La memoria di questi nostri cari amici che purtroppo l'anno passato ci hanno lasciato, certo angoscia e rattrista i cuori soprattutto dei familiari, dei parenti, ma chiaramente anche di tutti noi amici. Tuttavia penso che elevare la memoria di persone, di amici con la fruizione di questo dono che viene fatto alla città, penso che sia veramente uno dei gesti più nobili e più esemplari che possono esserci. Durante la cerimonia di presentazione erano presenti i congiunti di Emanuele e Giuseppe Alabbiso. Un ricordo che rimane a tutti noi, noi che siamo i familiari, i diretti familiari, a maggior ragione, difficile da dimenticare, impossibile, ci apporteremo per tutti i giorni. Poi siamo qua nella speranza di continuare quello che ha fatto mio fratello con l'Apro Civisti ed essere nel volontariato. Spero prossimo futuro tramite Luca e tutti quanti i ragazzi, io sono a loro disposizione. Il responsabile della Pro Civisti di Gela, Luca Cattuti. L'importanza di questo nuovo mezzo nel territorio è quello di offrire un servizio maggiore, soprattutto quello di aiutare quello che è il servizio che viene reso nella cittadinanza grazie alla MAIC 10. Questo mezzo che è la MAIC 12 è un altro mezzo medicalizzato che supporterà sia il servizio di eccedenza, soprattutto i trasferimenti tra nosocomi. È un mezzo importante perché l'importanza di più mezzi di soccorso nel territorio gelese dal punto di vista sanitario servono. Quindi questo mezzo va a arricchire l'efficienza e va a supportare quello che è il servizio di eccedenza 118 nel territorio locale. Contrada Pampinella, nei pressi della Stadale 115 Gela Vittoria, pochi passi dall'ingresso della città. Benvenuti nella discarica a cielo aperto per eccellenza. Si trova di tutto, ma proprio di tutto, dagli elettrodomestici in disuso, alle cassette per la frutta, cartoni, bottiglie in plastica ed in vetro, materassi, mobili, vasche da bagno ed anche abbigliamento. Cumuli di spazzatura in ogni dove, veri episodi di inciviltà e degrado ambientale. È stato un cittadino a segnalarci la presenza di quanto le immagini vi raccontano. Come trasio, trasio per andare verso Pampinella, che questa zona non la conosco, è vinta una guerra che c'è, un macello, bena vergogna, bena vergogna, demonizia che è chiettata. Ma non lo so, questo paese di Gela funziona, non funziona, e le spazzature le paghiamo, carissime. Ma allora quando ci vengono a controllare che c'è una camion di spazzatura che non veniscono mai? Ma qui poi si trova di tutto? Di tutto, ma più avanti ancora, neanche se giriamo, c'è il sterro, c'è la fine del mondo, perché i camionisti, uno, l'altro, tutti quelli che sono, con questo sterro, arrivano, scarregano, stanno vanno, basta, è finito qua il discorso. Non c'è controllo a nessuna parte, nessuna parte. C'è un macello, scendono qua a commissione, ebbene a dire che c'è due camion, per lavare tutta questa monizia, se c'è basta. E' vergognoso, è vergognoso, uno passa da qua, può farsi una camionata, va a trovare qualche amico, è vergognoso. Io arrivo su tutto il ponte e maneggero, maneggero, perché ci vengo, insomma, qua, una volta ci metto i camion, c'è un suo amico, carina. Insomma, io la mattina passo qua così, faccio una camionata e basta. Consiglio comunale al vetriolo a Palazzo di Città, Gela, sarebbe proprio il caso di dire chi di social ferisce, di social perisce. Pronte ed immediata arriva infatti in aula la risposta secca all'assessore Eugenio Catania, che aveva scritto e pubblicato un post su Facebook, giudicato poi da componenti del civico consesso, fortemente diffamatorio. Andando al nocciolo della questione, è stata chiesta al sindaco Domenico Messinese dal consigliere comunale Salvatore Gallo, supportato dai colleghi Casano, Giudice e Biundo, l'immediata rimozione dell'assessore Eugenio Catania. Lo stesso consigliere comunale del Partito Democratico Gallo ha riletto in aula il post contro il quale è stato puntato l'indice e nel quale Catania si lascia andare a pesanti insinuazioni, definendo alcuni consiglieri comunali, alcuni cittadini, amici di, ex amici di, ex raccomandati da, ex lecchini di, eccetera, eccetera. L'esponente della giunta messinese ha attaccato con il suo post consiglieri che sarebbero capaci di dare solidarietà solo a VIP e sindaci di altre città e inoltre l'amministratore affronta il tema delle competenze, additando consiglieri che conseguono la laurea triennale dopo 15 anni e non risparmia commenti nemmeno sugli immobili comunali assegnati ad associazioni che le avrebbero trasformati in BNB. Insomma, accuse di insinuazioni che hanno urtato gran parte dei consiglieri che hanno pronunciato la volontà di presentare una mozione di sfiducia nella prossima seduta di consiglio comunale, oltre che l'intenzione di valutare se sussistono gli estremi della querela. Questo boy scout, ha detto Casano, dovrebbe essere riportato all'ordine dal sindaco che lo ha scelto. Il sindaco Domenico Messinese si è riservato di approfondire la vicenda e dunque non si è pronunciato. Adesso si attende che il primo cittadino sciolga la stessa riserva. Che cosa l'ha indignata particolarmente fino al punto da chiedere al sindaco Domenico Messinese che venga appunto rimosso? Io parto dal presupposto che il rispetto istituzionale deve essere da parte dell'amministrazione nei confronti del consiglio così come il consiglio chiaramente deve avere un rispetto istituzionale nei confronti dell'amministrazione. Ieri ho riletto il post in aula perché all'apertura del dibattito, dopo che è intervenuto il sindaco, il sindaco ha detto che non conosceva il testo e quindi io l'ho riletto integralmente così come era stato postato. Ma ripeto, nulla di personale nei confronti di nessuno, non sono stato io come poteva essere anche un altro collega a leggere quello che è stato scritto. Il problema è un altro. Il problema è che quando si ricopre una carica istituzionale, che sia quella di consigliere comunale o di amministratore, bisogna innanzitutto avere rispetto istituzionale e bisogna dare serenità e tranquillità ai cittadini, quindi a chi ci ha votato, a chi ha avuto fiducia in noi. Questo è quello che abbiamo fatto come consiglio comunale, abbiamo chiesto l'inserimento del punto all'ordine del giorno per poterne discutere, perché ieri non era la sede idonea, spero che l'assessore Catania venga in aula intanto a chiedere scusa per le offese mosse nei confronti del consiglio comunale. È stato un coro unanime ieri, tra l'altro il documento che abbiamo presentato alla presidenza del consiglio mi pare che porti 27 firme, quindi l'intero consiglio comunale. Siete pronti alla sfiducia nei confronti dell'assessore? Ma bisogna vedere che cosa ci viene a relazionare in aula, perché magari se si scusasse, se riuscisse a dire che ha scritto quello che non pensava, noi siamo in aula e ascolteremo quello che lui ci dice e di conseguenza noi agiremo come meglio crediamo. Assessore Catania, lei rappresenta una carica istituzionale non indifferente, ma si è mai chiesto che bisogna poi porsi un limite e dunque non offendere soprattutto i consiglieri comunali? Ma io non ho mai offeso i consiglieri comunali, almeno nei miei scritti è proprio difficile trovare un'offesa ai consiglieri comunali. Se offesa, insomma, secondo l'interpretazione di alcuni consiglieri comunali possa esserci stata, chiedo scusa perché comunque ritengo che il consiglio comunale, in quanto istituzione importante della nostra città, nel contesto democratico, nella guida dei comuni, costituisce uno degli organi principali insieme alla Giunta per amministrare la città. Però lei se deve accercare, già era accaduto con l'architetto Tuccio, adesso anche con i consiglieri comunali. Tuccio ha smentito che ha avuto un'aggressione fisica, ha parlato di alterco verbale, da qui a parlare di aggressione nel caso di Tuccio non vi era stato, come in questo caso, non c'è stata nessuna offesa ai consiglieri comunali. Però già un alterco verbale è preoccupante se arriva da un amministratore comunale? Beh, un alterco verbale uno può avere una discussione, io ho un carattere che può essere interpretato come forte e quando mi interpongo con le persone pensano che abbiano la mia stessa tipo di tembra. Quindi magari sbaglio in questo a ripenere che tutti hanno il mio tipo stesso di carattere e magari quando vado nel sottolineare alcune cose lo faccio in maniera dura, ma da qui è parlare di aggressione. Ci sono diversi tipi di sensibilità, come disse allora l'architetto Tuccio, e vuol dire che io ho una soglia di sensibilità un po' più alta rispetto a lui. Tutto questo potrebbe comportare un suo allontanamento da parte del sindaco messinese? Se il rapporto di fiducia viene a mancare, è normale che viene a mancare anche il rapporto con l'assessore. Noi come assessore siamo sempre in bilico e non abbiamo che avere paura del nostro futuro. Lei diceva che tutti gli assessori sono in bilico, ma quello che è più in bilico è lei, perché è lei che se le va a cercare. Ma non è proprio così, insomma. Perché non è proprio così? Lei ha la tastiera facile. Non capisco perché tutti gli altri possono scrivere, io non abbia la stessa libertà di poterlo fare. Tra l'altro lo faccio da molti anni, non sono stato mai querelato, diversamente da alcuni professionisti che invece le querele li beccano ogni giorno. Dunque si chiede scusa ai consiglieri comunali? Senza dubbio, chiedo scusa se ho urtato la loro sensibilità, anche se comunque nel posto non c'era nessun riferimento ai consiglieri comunali e non li avevo etichettato come Lecchini o come null'altro. Non lo farà più? Assolutamente, se lo farò, lo farò in maniera diversa. Audizione ieri in prima commissione affari istituzionali a Palermo sul disegno di legge di variazione dei confini territoriali dei liberi consorsi e che riguardano in particolar modo Gela, Piazza Almerina, Niscemi e Licodia e Obea, comuni che attraverso il referendum hanno deciso di staccarsi dall'ex provincia di appartenenza. Erano presenti i sindaci delle città interessate e i componenti dei comitati per lo sviluppo dell'area gelese e gelensis popolus. Tutti hanno ribadito di volere aderire alla città metropolitana di Catania nel rispetto delle scelte effettuate dai consigli comunali e dalle popolazioni. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, nel suo intervento si è soffermato sui danni incalcolabili che queste comunità subiranno rimanendo in questo pericoloso limbo che ostacola la programmazione e le iniziative collettive con gli altri comuni della città metropolitana di Catania. Il primo cittadino di Piazza Almerina, Filippo Mirodi, ha sottolineato la necessità di dare risposte certe e immediate agli elettori e alle popolazioni coinvolte nel rispetto delle regole che una democrazia si dà attraverso le leggi. Hanno detto loro anche i rappresentanti delle varie associazioni. Non è piaciuto l'intervento del deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Giuseppe Arancio, il quale ha reiterato la sua contrarietà alla scelta di queste comunità di passare con la città metropolitana di Catania. Arancio, si legge in una nota diffusa dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, ha adotto argomenti ritenuti assurdi e pretestuosi al solo scopo di suggerire ai membri della prima commissione e gli appigli per rinviare il più possibile ciò che oramai è inevitabile e, secondo gli altri presenti, improclastinabile. L'assessore regionale alle autonomie locali, Luisa Lantieri, invece ha ribadito che i referendum sono validi. Ciò è stato comunicato dall'ufficio legislativo regionale con provvedimento già pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana. Ora si tratta pertanto di prendere atto di scelte già fatte nel rispetto delle leggi vigenti. Il Presidente della prima commissione, sottolinea invece Gerenzis Populus, ha dichiarato che a suo parere questa vicenda risulta ingarbugliata e poco chiara, aggiungendo che l'articolo 2 della legge sui liberi consorsi, che parla della definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari, pone molti problemi all'amministrazione regionale sulle procedure di suddivisione. Nonostante queste dichiarazioni negative emerse dall'incontro, il Comitato Gerenzis Populus non si rende rilanciando di volersi fare portavoce delle stanze e dei cittadini del Gialese, istanze che saranno portate in ogni sede consentita proprio per difendere un percorso che i Gialesi hanno diritto a vedere finalmente concluso. Voi siete gli angeli di corsia, portate un sorriso ai bambini, specialmente negli ospedali. Sì, sono Clowns Midollata, la Presidente dell'Associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta. L'associazione è un'associazione federata, quindi siamo presenti in tutta Italia in 55 città, è la sede nazionale a Torino. Siamo Clowns, volontari, ogni domenica facciamo volontariato in pediatria e in oncologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e facciamo anche volontariato nelle case di cure, andiamo nelle scuole a fare progetti. A breve ci sarà un corso di formazione, quindi tutti coloro i quali volessero intraprendere questa nuova attività di volontariato per regalare sorrisi, cosa devono fare? Esattamente, la prossima settimana, il 6-7-8 maggio, ci sarà un corso base, verrà il nostro formatore di VIP Italia a formare e reclutare nuovi clown, però poi dopo il corso base la formazione continua attraverso le nostre trainer, le nostre allenatrici e qui alla mia sinistra abbiamo Scintillosa. Cosa vuol dire essere un clown di corsia e perché diventare un clown di corsia? Essere un clown di corsia significa avere tante emozioni da distribuire a chi incontri. Essere trainer significa avere la responsabilità di conteggiare gli altri a essere dei clown formati, formati, forse una parolona, formati. Siamo noi allenatori che alleniamo i nostri clown come squadra, con degli esercizi che ci rendono in sintonia, in fiducia, un gruppo forte per poter poi andare in ospedale a portare sorrisi. Voi siete un gruppo molto nutrito, siete insomma provenite da esperienze professionali eterogenee, completamente diversa l'uno dall'altra, però insieme avete un unico obiettivo che è quello di alleviare la sofferenza di chi sta male. Esatto, il bello del volontariato è questo, che è un dare avere. Noi siamo convinti la domenica di andare a donare, ma alla fine usciamo che abbiamo ricevuto molto, veramente tanto. In realtà quello che ricevete forse è maggiore di quello che riuscite a dare perché il sorriso che si dà torna indietro. La clown terapia è proprio una terapia non solo per chi riceve, ma anche per noi che diamo. Quindi vi aspettiamo con tanto affetto questo weekend, venite a fare il corso base, mancate solo voi, mi raccomando, vi aspettiamo. Una risoluzione parlamentare sull'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela l'ha annunciata il presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanitari all'Assemblea regionale siciliana, Pippo Di Giacomo. Il deputato regionale, che ieri si è recato direttamente nel presidio ospedaliero, ha vagliato le problematiche del nosocomio, dopo aver sentito la direzione generale dell'ASPA di Caltanissetta, la direzione sanitaria della struttura gelese, i deputati regionali Arancio, Federico e Cancelleri, amministratori e consiglieri comunali, quest'ultimi componenti della Commissione Consiliare Ambiente e Salute, preseduta da Virginia Farruggia. È bene che il Parlamento torni a prendere posizioni, schierandosi con questa cittadinanza e con questo ospedale, data la sua centralità, data la sua ubicazione in una zona ad altissimo rischio, e stante il fatto che negli anni dobbiamo riconoscere questo sistema complessivo ha perso dei punti. E noi siamo qui per rilanciarlo con un pieno coinvolgimento anche della direzione generale dell'azienda. Riteniamo che gli obiettivi di allineamento dell'ospedale di Gela, le sue migliori tradizioni storiche, non sia lontano, ma insomma sia soltanto una questione di qualche mese. Ecco, insomma, siamo al lavoro e siamo qui proprio per dare questo segnale all'assicurato. L'assessore comunale Francesco Sanlimitro per sollecitare la rapida attivazione dell'Utin ha offerto all'Asp la collaborazione dell'istituenda centrale unica di committenza. Il progetto dell'unità infatti è fermo all'Urega e una volta concretizzato dovrebbe fronteggiare anche l'assenza di risorse umane. L'atto parlamentare a Sala d'Ercole così dovrebbe premere sui 5 milioni di euro necessari all'azienda sanitaria per potenziare il presidio gelese. Agli atti della riunione di ieri è stato stilato anche un elenco di criticità dell'ospedale sollevate dall'assessore Sanlimitro. Alla fine dell'incontro Di Giacomo assieme agli altri amministratori ha visitato alcuni reparti del Vittorio Emanuele. È stata una commissione utilissima che ha messo in evidenza e fatto percepire al Presidente della Commissione Sanità quali sono i problemi reali di questo ospedale. Pensiamo che sia stata la giusta sensibilizzazione e che possa essere un primo passo per arrivare a dotare questo ospedale di quelle a coprire quelle manchiavolezze e quelle mancanze anche in termini di struttura e di attrezzature delle quali ha estremo bisogno. La disponibilità è verificare che ci siano le condizioni per accelerare il processo di emarazione del bando e anche la conclusione del bando stesso. Io penso che l'interesse su Gela sia alto e si stia elevando sempre di più. Sono contenta, lo ribadisco, l'ho già detto, che noi siamo felici di avere finalmente una programmazione, una pianificazione che seguiremo con oculatezza e con impegno. C'è tanto da fare, alcune cose sono già state fatte, però finalmente ritengo che ci sia un cambio di rotta perché non si parla più di interventi a spot o soprattutto di interventi che siano tesi semplicemente all'alzare la percezione che si faccia un qualcosa. Penso che questi tempi siano già finiti e la politica debba cominciare ad occuparsi di interventi strutturali. Purtroppo gli interventi strutturali hanno bisogno del tempo, ma sicuramente gli obiettivi che si possono raggiungere sono ben altri. Un ospedale che potrebbe vantare delle eccellenze, non dobbiamo dimenticare l'urologia e quello che sta realizzando, ma è anche una struttura che ha una stenderia, che non è l'altezza della situazione, così come un pronto soccorso con un numero di personale che non è adeguato per rispondere alle esigenze dell'agente. Io mi auguro che finalmente si possa fare squadra per cercare di dare a questo paese quello che va alla ricerca da tanto tempo. È inespiegabile che un paese come Gela, con un numero di casi di tumore così alto, poi alla fine ci ritroviamo con un'attacca che non è funzionante e che magari la PET-TAC viene fatta a cartanissetta. Noi questo non pretendiamo che l'attacca venga tolta da cartanissetta per essere portata a Gela, ma che in una distribuzione delle risorse Gela venga più attenzionata rispetto agli altri paesi dell'Aproviso. L'estate di Giacomo, un evento bellico visto con gli occhi di bambino, che storia è questa? È la storia di un ragazzino che va a lavorare d'estate in una malga, la malga sarebbe l'alpeggio, il luogo in cui si portano gli animali d'estate sulle Alpi, pratica che avviene tuttora. Il ragazzino va a aiutare come aiutano i ragazzi, lo chiamano lo scoton perché si brucia quando deve spostare il calderone della caliera dove si fa il formaggio. Però è l'estate del 44 e quindi sulle vette feltrine, oltre ad esserci la maga e la natura e l'alpeggio, c'è anche la brigata Gramsci, una brigata pattigiana con tutto quello che questo consegue e quindi il bambino cresce durante quell'estate ben più di quanto non si aspettasse, entra in contatto con il mondo degli adulti, con il mondo della guerra, con il mondo della resistenza, con ciò che può essere giusto e ciò che può essere sbagliato eccetera eccetera. Parlare ancora oggi di resistenza nell'ambito dell'editoria per ragazzi è importante. La resistenza e quindi la conseguente liberazione sono stati dei momenti decisivi della costruzione di questa Repubblica così in questo momento malandata. E siccome i ragazzi della scuola secondaria di primo grado conoscono attraverso i programmi di storia per la prima volta in questa fase della loro vita, i fatti che riguardano la prima e poi la seconda guerra mondiale, ci è sembrato opportuno, ovviamente in concomitanza con il 25 aprile, rinforzare questo tipo di conoscenza. Qual è il contributo che questo libro, la lettura di questo libro ha dato alla vostra conoscenza di un conflitto bellico? Beh, il contributo che ha dato è stato incredibile perché ci fa vedere la guerra con gli occhi di un bambino che ha vissuto quel periodo, nonostante non sia un bambino veramente esistito ma questo ci fa medesimare di più nella figura che è Giacomo. Quindi noi adolescenti finalmente possiamo anche medesimarci in una guerra che è stata un incredibile martirio dei ragazzi e delle persone del nord che hanno combattuto fino all'ultimo per la nostra libertà e che hanno liberato finalmente la nazione dai tiranni che sono stati Benito Mussolini e Hitler. Un autore che ha scritto un libro proprio commovente e che ci ha dato l'opportunità di leggere il suo libro e di capire il periodo della resistenza attraverso gli occhi di un bambino appunto che ha quasi la nostra età. Si celebrano oggi 30 anni dell'esordio di internet nel mondo. Internet ha cambiato un po' la vita di tutti noi soprattutto nell'ultimo decennio e i nativi digitali hanno sempre qualcosa da insegnare un po' a noi adulti. Oggi anche loro sono coinvolti in questa giornata che è diventata una giornata nazionale. Si è una giornata nazionale promossa anche dal MIURRE al quale noi abbiamo aderito come istituto comprensivo Quasimodo con un evento dal titolo Programma non farti programmare che è un po' il light motive che ci ha condotto nelle attività di coding quest'anno a scuola perché noi abbiamo proprio insistito sull'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Non bisogna demonizzarle però è chiaro che occorre fare una riflessione su un uso adeguato perché spesso i ragazzi nativi digitali che sono esperti nell'utilizzo di queste tecnologie non ne conoscono bene i limiti o comunque i limiti che forse si devono dare e per cui è opportuno fare anche una riflessione di questo tipo. Peraltro oggi abbiamo voluto anche celebrare questo evento per fare anche un bilancio di tutte le iniziative che la scuola quest'anno ha portato avanti in materia di programmazione di coding tant'è che il coding quest'anno è diventato proprio un insegnamento curriculare per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado e pensiamo anche l'anno prossimo speriamo di poterlo fare di estendolo alle classi terminali della scuola primaria. Preside, come è cambiata la scuola negli ultimi anni con l'avvento di internet? Un primo strumento che ha un po' rivoluzionato il lavoro didattico in classe è rappresentato dalla LIM ad esempio. La LIM ormai per certi versi è storia nella scuola, è uno strumento potentissimo però ormai si utilizza da qualche anno e diciamo che quella che è l'attualità è la cosiddetta didattica povolta per esempio la Flipper Classroom e quindi molte scuole noi anche in questo senso ci siamo mossi per poter cercare di portare avanti anche queste nuove metodologie didattiche che le nuove tecnologie consentono di poter attuare. è chiaro che è uno strumento importantissimo però va anche considerato il fatto che il rapporto fra docente e discente rimane al centro della relazione educativa, questo non bisogna mai dimenticarlo, cioè sono solo degli strumenti, delle tecnologie, poi è importante poi riflettere bene su come utilizzarle.